Opa! Ciao! Oggi vedremo insieme questa bellissima maglia dei Lakers in edizione Swingman. Colori alternativi e design Jumpman distinguono il modello Statement Edition. È una maglia che simboleggia la forza del collettivo, lo spirito e la mentalità competitiva del roster. Per la stagione 2020-21, le maglie Statement Edition di tutte le 30 squadre dell'NBA sfoggiano l'iconico design Jumpman di Jordan. La maglia Statement Edition Swingman Jordan NBA e il Los Angeles Lakers si ispira al modello indossato in campo dai professionisti. Il modello è realizzato in mesh a doppia maglia e grazie alla tecnologia DryFit la pelle resta fresca e asciutta. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate al 100%. Secondo me la maglia è favolosa, peraltro non l'ho scelta io, l'ha scelta mio figlio, è un pochino più stretta perché è per lui e devo dire fatta benissimo con dei colori fantastici. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, Edoardo sarà felicissimo di riceverla. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e vi ricordo che è possibile avere degli sconti legati alle quantità. E usando il link che è qui sotto potete ottenere un buono e aiutare il canale a fare prossime recensioni, altre recensioni in futuro. Ora vi lascio la parte in cui vedrete la vestibilità e spero possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia S dell'edizione Swingman. In questo caso, secondo me, per me, è meglio una taglia media, ma questa, come vi dicevo, è per mio figlio.